C'è attesa in Casavellino per completare il pacchetto arretrato dopo essersi assicurati un portiere di sicura affidabilità, dopo aver confermato l'Aezza e dopo aver messo a segno i colpi Rocchi e Miceli, a cui si è aggiunto il croato Nicolic, il direttore sportivo salvatore di Somma e vigile sulla situazione di Stefano Scognamillo, difensore classe 1994 ancora in forza al Trapani. I calciatori hanno presentato due messe in moral club, una per la mensilità di aprile, l'altra di giugno. Quella relativa ai pagamenti di aprile è stata presentata a metà luglio con il termine di pagamento che sarebbe quindi scaduto prima dell'avvertenza presentata dal Trapani ai propri giocatori. Scognamillo potrebbe chiedere di ottenere lo svincolo a giudicare, sarà il collegio arbitrale. Uno svincolo che arriverebbe senza problemi, ma i tempi per chiudere la questione si aggirerebbero intorno alle tre settimane circa col calciatore che, sicuro dell'accordo con l'Avellino, potrebbe vestire il bianco verde nel mese di ottobre. Uno scenario che potrebbe chiudere la telenovela, anche se servirebbe pazienza sia al calciatore che a Braglia che non potrebbe averlo a disposizione in ritiro, bensì a campionato iniziato. Si cerca un escamotage per forzare la mano con il Trapani allora e farsi liberare dal club il prima possibile. Nelle prossime ore ci saranno sicure novità.